Tenuto conto che il punto nascita di Sulmona non è stato ancora oggetto di chiusura, la Regione invita i direttori generali a mettere in sicurezza tutti i punti nascita e a maggior ragione quelli che, interessati dalla razionalizzazione, non hanno ancora disattivato le proprie attività. A sottolinearlo è l'assessora regionale alla sanità Nicoletta Verì, che da diversi giorni è impegnata in una serie di incontri in tutte le asle abruzzesi, dopo Chieti Teramo oggi l'incontro con i vertici e i medici dell'ASL dell'Aquila per concludere nei prossimi giorni a Pescara. Per Verì, nella fase di razionalizzazione e riduzione progressiva dei punti nascita, si devono comunque garantire tutte le attività sanitarie necessarie per accompagnare in sicurezza le gravidanze fino al momento del parto. Un aspetto di cui l'assessora chiederà conto alla direzione generale dell'ASL dell'Aquila per quanto riguarda in particolare il punto nascita di Sulmona, alla luce delle carenze di organico che rendono ancora più difficile la vita nel reparto. Oggi abbiamo un incontro in direzione qui dell'ASL dell'Aquila, un incontro che io sto organizzando su tutto il territorio della nostra regione, quindi avevo già prestabilito questa data. Tratteremo tutte le criticità che ci sono nell'azienda e tra queste ci sarà anche l'esame del punto nascita di Sulmona. Come ho già detto, non avendo chiuso questo punto nascita e quindi bisogna continuare a metterlo in sicurezza. Questo lo stabilirò, lo dirò chiaramente, quindi adesso faremo un esame preciso di quali sono gli specialisti, di quali sono le esigenze che ci sono sia del punto nascita ma anche e soprattutto dell'ospedale di Sulmona. Noi dobbiamo riorganizzare la rete ospedaliera, quindi la prima fase è quella conoscitiva di osservazione sia sulle carte ma soprattutto anche diretta sulle realtà, sulle criticità dei vari ospedali, come dovranno essere ridefiniti e soprattutto quali punti di eccellenza collocare nei vari ospedali.